Noi siamo tempo, questo ci dice l'astrologia, e la riflessione sul tempo è una riflessione su di noi. Poi, ognuno di noi ha un tema natale, che vuol dire viene segnato dal suo tempo. Questo suo tempo è unico, è unico in tutta la storia. Non esiste nessun altro tempo che era uguale al nostro tempo. Se noi siamo nati il 12 febbraio del 1979, quel disegno lì ce l'ha solo quel momento lì. Non c'è stato mai prima un altro disegno simile. Quindi l'astrologia è una individualizzazione del sé, individuale, assoluta. Cioè, nessuno ha avuto mai quella configurazione prima. Quindi quell'essere tempo sono proprio io. Quel momento specifico mi caratterizza, caractere. Che non vuol dire mi determina, no? Non vuol dire che entriamo in quel delirio che era la grande querelle di Sant'Agostino sul libero arbitrio. Per cui questo tempo ci condiziona. Per forza, che noi siamo condizionati, è lampante. Se uno nasce, viene su ed è alto 1,60, è condizionato. Non ha il libero arbitrio di essere alto 1,98. È 1,60, quello è condizionato. Ma se una persona è in armonia con se stessa, si troverà benissimo a essere alta 1,60. L'importante è che non pretenda di diventare campione del mondo di salto in alto. Perché allora sta male. Quindi è molto importante che ognuno conosca se stesso. Non per soffrire e guardare l'erba del vicino che è più bella. Perché se il vicino è alto 1,94, lui potrà diventare il campione mondiale di salto in alto. Ma magari non potrà assolutamente diventare il campione mondiale dei 10.000 metri. Quindi ognuno ha il suo essere se stesso assoluto. Dicono in Oriente, nella foresta ci sono alberi alti e alberi bassi. Rami lunghissimi e rami cortissimi. Ma questa armonia è meravigliosa. Cioè l'alto è bello come il basso e il lungo è bello come il corto. L'importante è che il corto non pretenda di fare quello che è alto 1,60, di diventare campione mondiale di salto in alto.